Ciao a tutti amici amici di Andrew Channel, bentornati ad un nuovo video dedicato a Sid Meier Civilization 6, Rise and Fall, con Robert DeBruce. Lo scorso episodio è stato importantissimo perché siamo riusciti ad arrivare al minimo di punti storici per entrare in un'età dell'oro, quindi non appena entraremo nel rinascimento la nostra fenomenale Scozia avrà un'età dell'oro. Dovremo essere passati per un'età oscura, sono molto contento in questo Let's Explore di potervi mostrare anche l'età dell'oro. Adesso, vando alle ciance. Lo scorso episodio è stato tutto incentrato sul miglioramento del nostro regno. Abbiamo migliorato molto le risorse geografiche, abbiamo costruito molte miniere, le segherie, eccetera, eccetera. Abbiamo costruito un nuovo mercato e una nuova rotta commerciale ed in Burga adesso inizia veramente a produrre ricchezza. Abbiamo un 72 ducati o pezzi d'oro per turno e soprattutto abbiamo scoperto un nuovo continente occidente che ospita romani e francesi. Con i romani abbiamo iniziato un commercio molto lucrativo, molto utile, anche se probabilmente più a vantaggio dei romani, ma comunque meglio di nulla. E adesso ci ributtiamo a pesce. Dobbiamo cercare di espanderci e dobbiamo cercare di diventare un impero abbastanza tosto. Quindi inizio a ricercare anche le armi da fuoco. Non ho il salnitro. Lo devo trovare. Dove? Ouch. Qui. Qui c'è una risorsa di salnitro che potremmo strappare a Mumbai. Purtroppo siamo molto distanti. Questo è un problema. Vediamo se nell'altro... Sì, qui, 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 qui. Se fondiamo una città su questa foce abbiamo le balene, risorse di lusso, il salnitro, il ferro e anche i granchi. Quindi sicuramente qui serve mandare un colonist appena possibile. Edimburgo ha costruito la ruta commerciale. Ok. Fa un colono. Turno successivo. Glielo facciamo costruire perché abbiamo anche la policy che velocizza la produzione di colonists. E' sicuramente molto utile al momento. Ok, intanto costruiamo una miniera. E qui continuiamo a proseguire. Ok. Ora puoi mantenere più rotte commerciali rispetto a prima perché finalmente è terminato anche il faro di Cullen. Molto bene. E a questo punto Cullen mi fa un commerciante in quattro turni. Commerciante che se tutto va bene riusciamo a portare magari a commerciare verso Marsiglia con i francesi. E sarebbe un'ottima idea. Iniziamo ad essere una civiltà mi piace. Una buona civiltà. Mi piace molto questa cosa. Adesso qui possiamo fare anche un'altra cosuccia. Blocchiamo la miniera. Compriamo il territorio sempre vicino alla nostra... Alla nostra zona industriale e costruiamo altre miniere. Così abbiamo più bonus vicinanza. E adesso possiamo costruire anche l'università di Sterling. L'università di Scone è già arrivata. Più 62 per turno. Un sacco di ricchezza. Fantastico. Scone costruisce il faro che ci darà una nuova rotta commerciale. E... Ah cos'è questa cosa? Più... Wow! 44 punti ragazzi! Turni della prossima epoca 8. Frotto turni in termina dell'oro. Oh yeah! Vediamo se riusciamo a fare un passaggio a nord-ovest. Non penso. Per intanto abbiamo trovato i romani e i francesi molto bene. Abbiamo giocato molto alto fino ad ora. Devo ammetterlo. Un'espansione sarebbe stata forse... Non sì, non sarebbe stata male. Non sarebbe stata sprecata però. So far so good. Direbbero i britannici. Ehi! No! Va bene. Ho sbagliato tutto. L'unico problema potrebbero essere gli indiani. Potrebbero attaccare. E questo è il motivo per cui sto ricercando anche le armi da fuoco. E appena abbiamo il diritto divino ci convertiremo in una monarchia. E poi cercheremo i mercenari per avere gli sconti sui miglioramenti a delle unità. Anche questa è una cosa molto importante. Sterling! Adesso è il momento di comprare un'altra casella. Questa diventerà nostra automaticamente. Quindi non serve acquistarla. E anche in questo caso miniere. Miniere come se non ci fossero domani. Guardate che ottimi bonus abbiamo. Adesso la produttività di Sterling inizia ad essere notevole. Possiamo comprare un missionario ma non lo voglio fare. Questa è un'altra miniera. Presto potrebbe essere il caso di tornare al feudalesimo per un po' di builder. E bene! I romani chiedono di fondare un'ambasciata a Sterling. E mi fa molto piacere. Andiamo a vedere i rapporti che abbiamo con loro. Vedo ragazzi delle schermate che diventano nere. O mi vanno al menu come se schiacciassi. Adesso premo escape. Come se facessi così. Non so se è un bug del gioco. Ok. Cullen purtroppo no. Purtroppo no. Può andare a Marsiglia in realtà. Avremo soltanto però poco oro e un po' di religione cattolica. Hong Kong invece ci darebbe produttività. Denaro. Zanzi va a tantissimo denaro. Forse l'idea migliore è quella di andare a Hong Kong. In questo modo oltre a migliorare ad avere una strada che va direttamente a Scone e poi a Hong Kong abbiamo anche un po' di produttività in più a Cullen e più denaro chiaramente. Cullen che ora mi fa un colono anch'essa. Dobbiamo espanderci. Meraviglia. Monsa Michel. Qualcuno qui sta cercando di arrivare alla vittoria religiosa ragazzi. Attenzione. Ok. Nuova miniera per Sterling. E anche questa miniera viene bloccata. Adesso come potete vedere non abbiamo tantissimo cibo però abbiamo anche poche abitazioni quindi dovremmo lavorare molto su abitazioni a Sterling ma non nel momento. Se vogliamo farla crescere dovremmo anche bonificare e fare molte più fattorie. E abbiamo le armi da fuoco signori. Più un punteggio epoca. Ok qui ci sta tantissimo un'altra città. La voglio fare ma la faremo con questo colonist. Cosa vuol dire meno 5? Ah l'influenza delle città vicine applicerebbe slealtà. Molto bene perché a questo punto fonderemo la città proprio un po' più in là. E per essere sicuri che non ci siano problemi anche di nemici portiamo anche un picchiere nel nuovo mondo. E ora abbiamo anche la possibilità di fare più rotte commerciali. Fantastico. Ok fatemi vedere l'albero delle tecnologie. Adesso dobbiamo andare verso la vittoria scientifica perché questo è quello che vorrei fare. Quindi teoria scientifica potrebbe essere una buona idea perché questo mi permette di avere l'università di Oxford e quindi andiamo sull'astronomia. Produzione. Scona. Terminato il faro. Fa il commerciante. Qui abbiamo terminato il colonno. Facciamo le mura antiche. E poi anche le mura rinascimentali presto. No. Difficitiamo qualsiasi scambio con gli indiani perché sono i nostri diretti competitor. Come si dice in termini di business. e non voglio proprio vederne. Oh yeah. Ragazzi questo progresso civico è importantissimo. 720 d.C. Torno 147. Oh. Stai zitto. Allora. Diritto divino. Finalmente possiamo diventare una vera e propria monarchia medievale con un re, una corte, le principesse, gnocche e tutte queste cose qui. Ovviamente questo si traduce nel fatto che la monarchia ci darà molte più carte rispetto alla repubblica classica in cui siamo adesso. In più abbiamo una nuova carta che è la cavalleria. Più produzione per l'unità di cavalleri leggeri eccetera eccetera. E l'architettura gotica che migliora la produzione di meraviglie medievali e rinascimentali. Tra cui Monsa Michel che è già andato e il Kotoku In che ha più 20% fede in questa città e 4 monaci guerrieri. Visto che io non miro una vittoria religiosa non mi interessa molto. Però la carta monarchia, yes. Più 1 abitazioni per livello di mura, più 50% punti influenza. Yes. Lunga vita al re. Al re. The Bruce. Come si chiama il nostro re? Non me lo ricordo mai. Aiuto, un blackout. Allora, che cosa mettiamo con la politica militare? Io direi la coscrizione che ci dà un po' di oro. Gli scudieri che ci danno attrattiva nell'unità con guarnigione. Tuttavia, i soldati veterani più 30% produzione per i distretti. No, in Limes. Perché questo raddoppierà la velocità di costruzione mura. Nessuna delle mie città a Mura li sfrutteremo. Il prestigio civile lo teniamo al posto della colonizzazione. E continuiamo a tenere la filosofia naturale per il bonus di vicinanza dei distretti di campus. Il resto può venire così com'è. Ragazzi, le antiche tradizioni evolvono. Più due punteggio e poca. E possiamo fare una nuova civica. Finalmente i mercenari. Con l'esercito professionista faremo finalmente tutti gli aggiornamenti militari del caso. E non vedo l'ora di arrivarci perché abbiamo un esercito che è terribile. 720 d.C. ma abbiamo ancora un esercito da Grecia Antica. Peggio anzi. Ok, nuovo scienziato. Vediamo. Tre tech di casuali di epoca rinascimentale e universale. Lo ingangiamo subito. Però aspettiamo prima di utilizzarlo. Voglio passare di epoca in modo che i punti storici valgano per la prossima. Edimburgo mi ha costruito le mura. Non possiamo farne altre per ora. Allora, cultura ne abbiamo? Non ancora. E quindi potrebbe essere... Non ci dà nessun vantaggio fare una piazza del teatro. Anche se ci servirebbe. Tuttavia una zona industriale sì, avrebbe molti vantaggi in realtà. Una bella zona industriale in quest'area. Il punto è che qui abbiamo già il vantaggio della zona industriale di Sterling, quindi non ha molto senso. Io a questo punto potrei pensare a un quartiere di divertimenti. Lo costruiamo qui in modo che poi possa prendere Sterling sicuramente. Uno, due, tre, quattro, cinque. Sì, quartiere dei divertimenti Edimburgo mi sembra una buona idea. Hai lasciato che i tuoi nemici si accaparassero alle terre vicine. I romani si sono arrabbiati con noi, ma presto diruberemo i loro territori, quindi saranno ancora più arrabbiati. Ve lo prometto. Ve lo prometto. Allora, un cinghialotti in cambio di argento e uno per turno. È un'ottima offerta, finalmente. E adesso che stiamo commerciando con i romani da un po' di te... Fermi. Fermi tutti. Fermi tutti. Sì, ragazzi, siamo in età dell'oro, portami lì. Allora, il mondo è entrato nell'epoca medievale. Nell'epoca rinascimentale, intendi dire. Piccolo bug. Ok. Età attuale per civiltà. Anche gli indiani sono in età dell'oro, tutti gli altri sono in età normale. Durante quest'epoca, ognuno dei tuoi cittadini esercita una pressione di uno e mezzo di realtà per turno. E questa pressione influenza anche le altre città in un raggio di 9 caselle. Ma l'effetto è ridotto del 10% per casella. Ok. Sarà più facile mantenere l'età delle tue città e mettere a rischio quelle vicine. Puoi scegliere una dedizione che fornirà un potente bonus per tutta l'età. Wow. Wow. Adesso sì che vedo le differenze. Comunque la chiamano l'epoca medievale ancora, eh. Ragazzi, quindi forse, adesso mi sto sbagliando, forse siamo entrati nell'epoca medievale e non in quella rinascimentale. Comunque vabbè. Molumentalità. Più due movimento di tutti i costruttori. È possibile acquisire unità civili in cambio di fede? L'acquisto dei costruttori e quelli in cambio di fede costa 30% in meno. Mi piace tantissimo perché ho fede da parte che posso utilizzare. Esodo degli evangelisti. Più due movimenti missionari, apostoli e più fede per i profeti. Non mi serve. Hixunt Dracones. Esplorazione. Più tre popolazioni iniziali nelle città fondate su un continente diverso della tua prima città. Più due movimenti in unità navale imbarcate. Più due lealtà pertune a tutte le città che non si trovano sul continente. Ragazzi, abbiamo trovato la nostra dedizione perché stiamo per andare a fondare le città e il nuovo continente. L'Hixunt Dracones ci darà un grande vantaggio. Hixunt Dracones è un motto latino che dice qui ci sono i draghi. Era un modo di dire perché nelle mappe antiche si disegnavano i dragoni nelle zone oceaniche poco esplorate e non sapevano un cavolo di cosa ci fosse, però disegnavano delle creature mitologiche dicendo ah non c'è niente qui, soltanto due continenti. Quindi questo mi piace molto. La riforma della moneta e i tuoi commercianti non possono essere saccheggiati. Le rotte commerciali internazionali forniscono più tre oro per distretto. No, prendo l'Hixunt Dracones perché mi darà praticamente un boost pazzesco. a questa epoca di colonialismo e a questo punto Sterling mi fa le muore antiche al volo e poi mi fa un colonist. Nuove missioni, nuovi impulsi, nuove missioni e adesso, svegliati bello, attiviamo la conoscenza per igiene pubblica, rigatura delle canne e industrializzazione. Boom. Ragazzi, che meraviglia essere in moneta dell'oro. È il top. Ok, nuova rotta commerciale, potremmo fare soldi facili a Zanzibar. Ravenna, Madure per la scienza, Hong Kong, produzione e denaro. Ragazzi, avere Zanzibar qui è un po' una gallina dalle uova d'oro, quindi io lancio sempre dei commerci a Zanzibar per ora. E che cosa si produce a Sterling? Abbiamo le mura a questo punto rapidissimi, un colonist. E qui mura antiche. Fiere medievali e eccetera eccetera. Quindi adesso siamo a 48 e se vogliamo rimanere nell'età dell'oro nella prossima epoca, che è l'epoca rinascimentale a questo punto, adesso ho capito, dovremo avere più di 75 punti. Sarà difficilissimo, ma vediamo. Perfetto. Cambiamo le politiche immediatamente perché l'esercito professionista lo togliamo al posto dell'immestromano e ci dà lo sconto su tutti gli aggiornamenti dell'unità. Il costo di mantenimento lo teniamo basso, ok, tutto il resto può rimanere. E visto che i soldi ci sono, adesso facciamo tutti i potenziamenti e possiamo sbloccare le gilde che ci danno carte molto interessanti. Anche le fiere medievali in realtà. Fornisce un titolo il governatore, vai, fai le gilde. In via Emissario, qui siamo sovrani, ma se arriviamo a 6 ci dà più 4 oro per ogni banca. Allora facciamo una cosa, cerchiamo di prendere Antiochia prima. E nel prossimo turno si aggiornano tutte le unità. I giapponesi sono arrabbiati perché non abbiamo abbastanza cultura, siamo delle capre. Lo sapevamo già. L'astronomia spinge l'anima a guardare verso... Ok, allora qui possiamo fare un nuovo colonist che possiamo mandare qua sopra. Cioè ce l'abbiamo già il colonist in realtà. E qui abbiamo completato le mura, perfetto. Quanti coloni possiamo ancora recuperare? Adesso aspettiamo un attimo. Il mausolei del ricarnasso no, è per gli ammiragli, non mi interessa. Credo che l'idea di fare magari una piazza del teatro a scone non sia così male. Qui potremmo buttare via un'ottima miniera che... Però ci dà un bonus vicinanza buono. Perché abbiamo già altri distretti. Ci dà più tre cultura. Eh, però no. No. Facciamo una cosa. Prendiamo il più uno di cultura. Basta. E buttiamo via questa foresta. E costiamo una piazza del teatro a scone. Perché dobbiamo iniziare a lavorare anche sulla cultura. Ma soprattutto, ora, 95 e abbiamo il primo balestriere. Il secondo. Qui servirebbe il san nitro per avere i fucilieri. Ouch. Il terzo balestriere. E qui ci serve la cavalleria pesante. Uno. E due. E finalmente il nostro esercito. È scarso, ma non scarsissimo. Allora, Kalen ha completato il colono. Adesso mi lavora le mura antiche. Perché comunque con la monarchia avere le mura è importante. Non è solo una questione di difesa. E poi al turno 152 le città devono essere difese, ragazzi. Benissimo. Qui fortifichiamo. Anzi, no. Che fortifichiamo? Andiamo ad esplorare gli interni di questo nuovo mondo con i nostri picchieri. Sembrano un po' dei conquistadores. Dai. Ci sta. Eh, subito i francesi dicono. Uè, fermi tutti. Eh. Uè, uaiò, dicono i francesi in francese. Qui non vi muovete. Io invece dico. Ma io in realtà qua mi trovo alquanto bene. Quindi, boom. Roxburg è il primo insediamento sul continente Nena. Più due punteggi d'epoca. Perché? Perché abbiamo appena rubato del territorio i nemici. E abbiamo quattro abitanti a Roxburg. Boom. Quattro. Non ci posso credere. Monumento. Sì, la... Wow. La... Vedete che qui c'è un meno uno di popolazione perché stiamo patendo la fame. Fermi tutti allora. Perché stiamo patendo la fame? Perché non stiamo utilizzando le caselle con il cibo. Quindi compriamo questa casella che ha il salnitro. Quindi non patiamo la fame. Non più almeno. Non cresciamo nemmeno. Giusto? Però... Un turno prima di patire la fame. Vabbè. Mi sa che mi tocca comprare un... No, no. Non patiamo qui la fame. Mi tocca comprare comunque un builder. Ma dobbiamo rientrare nel feudalesimo allora. Per migliorare un po' le colonie del nuovo mondo. Intanto portiamo indietro la nave. Il turno successivo. Roxburg è veramente importante ragazzi perché... Con tutti questi abitanti... È pazzesco vedere come la presenza del nuovo continente... Sia utile. Intanto abbiamo intercontrato Kabul, città-stato. E qui niente, perdiamo la nostra meraviglierrima... Galea. È un vero peccato. Saranno più abitazioni di Roxburg. Serve tutto a Roxburg ragazzi. Perché sono città così grandi. Aspettiamo due turni per avere... Il feudalesimo e poi compriamo il builder. Che avrà un po' di cariche in più. Magari provo a vedere se risalendo il fiume... Incontro ancora i francesi oppure se qui c'è della zona libera. Sterling intanto ha un colonist che mandiamo direttamente a Roxburg. E qui abbiamo un altro colonist che va a nord. No, qui siamo sopravvissuti... Mamma mia ragazzi. Siamo sopravvissuti per una fortuna incredibile. Ok, Sterling ha compiato il colono. Mi fa un bel costruttore, però fra un turno vi diamo due cariche in più. Kalen ha compiato le mura antiche. E mi fa l'accampamento finalmente, visto che ne abbiamo parlato a lungo. Magari su un territorio un po' scarsino. Tipo questo. Ci sta. Emissario, Antiochia. Torno successivo. E devo sempre controllare ragazzi da quanto tempo registro. Perché sono già 21 minuti e mezzo. Amici e amiche, questo è l'episodio più bello finora con la nostra Scozia per vari motivi. Siamo iniziati nell'età dell'oro, abbiamo iniziato la colonizzazione del nuovo mondo. E che colonizzazione! E adesso io direi che... Dove sta? Non abbiamo più... No, non ce l'abbiamo più! No, ce l'abbiamo ancora. Il prestigio civile... Leviamo la filosofia naturale per poco. Mettiamo la servitù della gleba. L'esercito professionista lo possiamo togliere. E possiamo creare le industrie marittime. Questo ci darà modo di avere una bella flotta, ma lo vediamo nel prossimo episodio. Amici e amiche, io vi ringrazio per essere rimasti con me e vi appuntamento alla prossima.